Simone non c'è, Simone non c'è, è una domandata moglie, moglie domanda Sì No no, perché il solito quando dice così no sono fuori città sono... Ah tu dice pure dove? No lui non mi ha detto dove Oh sì Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Grazie a tutti 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 Ah, capire 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 Chi sarebbe con questo Specie di nano Nano-vikingo qui Alla fine È un po' particolare Come personaggio, no? Ah, capire Ah, capire Ah, capire Ah, capire Penso che l'ho evocato già con la spada blu No, dico Quello che ho appena ucciso Che stava nella cella rinchiusa Alla fine Alla fine Alla fine Questa è una mazza Alla fine 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 Ecco Ma c'è un modo Per togliere la sta nebbia L'ho detto Usa la luce Prova la luce Corsa A più o meno di poi salta Porda nemica E poi niente A gancio Urrà Per vigore Renderti scheletro Bene Alla fine Vado un attimo La faccio un livello Veloce Perché lì avevo letto Che Cioè Avevo pensato che forse La magia della luce Non si può togliere Quindi Torce O Non mi aiuta Nessuna cosa mi aiuta Nessuna cosa mi aiuta Ok Ah bello Comunque mi manca pure Cioè Io non so se è qua Non dove erano Ah qui Mi manca Penso una sola anima Di quelle importanti da prendere Cioè che ce n'ha tre Non so... Non so nemico Puta dove trovarla Lascia Mi č riuscita mi piace mi piace lasciami ma pure il coso non so dove si trova per la vecchia ah la vecchiaia in garazzina ma quello che mi hai fatto è incontrare di sotto lo scolo lì potete chiamare me vengal se mi devono un nome in questo è raro di spettare queste piazze prima ero mi ricordo una lunga brutale combina e poi so non lo so non lo so ora vedo i giorni vedo i vedo i vedo i Apprendi i gesti. Che gesto apprendo? Decapitazione. Bello. Grazie a tutti. 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 Oh, ok. Grazie a tutti. Oh, ok. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello vicino? Quello lì? Quello per il tuo amico vecchio, dicevi? Cazzo. E' esagerato. Va a giocare l'uva perché sono un amante dei salti in questo gioco. Ecco qua. Chiave a zanna. Promotor passa su. Grazie a tutti. 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 Non è un nemico, non è un NPC? Ah, non è un... No, non è un... No, se stai, eh? No, se stai... No, se stai... No, se stai... Se no, niente. Non ci devo... Non ci devo entrer agire io quello Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla boom. 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 Oh, no, 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 no. Eccolo Eccolo Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Grazie. 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 Ah questa la devo fare tirare giù da lei non sa. Grazie. 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 Mi fermo un po', forse torno dopo. Grazie.